Buongiorno Marta, come sei? Sono bene, grazie. E tu? Sono molto bene, grazie. Hai dormito bene? Sì, molto bene. Ok, quindi a mattina, per la prima volta che hai ricevuto questa Crystal Globe come giocatore di giocatore di giocatore di giocatore, hai capito cosa hai fatto? Hai un'emozione unica dentro di me e per fortuna avevo avuto un po' di tempo a realizzarla perché da Jasna che l'avevo vinta un po' con una gara di anticipo e quindi quei giorni a casa mi hanno aiutato piano piano a metabolizzare il tutto. Allora, diciamo che sì, ho iniziato la stagione molto bene vincendo Sölden e poi il gigante di Courchevel quindi ho capito che poteva andare molto bene però fino alla fine ovviamente il nostro sport è uno sport molto particolare in cui non è mai dato nulla per scontato e quindi ho sempre cercato di tenere alto il livello per vedere poi concretizzata questa ma solo alla fine. La storia divertente è che hai partecipato alla vostra prima World Cup che è stata in 2014, è stata qui, a Lanza Heide, in Switzerland e a mattina ricevete la prima Crystal Globe. Hai credito in Destiny? Io non so se sia stata una cosa destinata esattamente o comunque ci sono state delle coincidenze con il fatto che nel 2014 io avevo vinto i mondiali junior a Jasna il 27 febbraio, il giorno del mio diciottesimo compleanno e quindi questa cosa mi ha permesso di venire a fare le finali di Coppa del Mondo qui a Lanza Heide e quest'anno di nuovo a Jasna ho realizzato di aver vinto la Coppa del Mondo e poi sono arrivata qui a fare le finali a Lanza Heide e ho vinto la Coppa, cioè l'ho alzata in mano e quindi sicuramente qualche coincidenza o un cerchio che si è chiuso c'è stato. Il nostro sport ci porta abbastanza a essere pronti mentalmente e adattarci a ogni situazione, poi chiaramente stanno gli atleti essere bravi, cioè essere presenti in quel momento lì perché noi poi sappiamo che quando è ora di partire, quando sei al cancelletto di partenza è lì che devi dare proprio il massimo e devi essere pronto. Per la prossima stagione a me piacerebbe ripartire da lì perché so che comunque per me il gigante è un po' la base di tutto e chiaramente quello che vorrei è riuscire a essere sempre più competitiva anche nelle altre discipline, come può essere il Super G che quest'anno ho ottenuto buoni risultati, però so che posso migliorare ancora e quindi c'è tanto lavoro, tanto allenamento da fare, però so che piano piano un passettino alla volta, come sempre fatto finora, si può fare. Siamo molto confinati che puoi ottenere una posizione molto interessante in futuro, quindi speriamo di farlo. Maurice Lacroix è supportato a te per la seconda settimana già, non potremmo si mette fisicamente questo anno, ma abbiamo apprezzato a te sapere, e noi sappiamo che sei una persona molto autentica, molto vicino alla tua famiglia, alla tua amici, attraverso le cose normali in vita, e molto vicino allo stesso sistema di stagione. Come si tratta con la tua popolarità crescita? Allora io intanto ti ringrazio per il fatto che dite che sono una persona autentica, perché è un po' quello che sono, io cerco di essere sempre me stessa e mi piace se esce questo mio lato. Chiaramente sappiamo tutti che con i risultati arriva anche più interesse da parte dei media, delle interviste e tutto, e quindi quello che cerco io di fare è sempre di raccontare quello che sono senza inventarmi nulla e fare uscire la mia personalità. Sì, è vero, io cerco di avere sempre degli sponsor in cui posso rispecciarmi e può uscire, la mia personalità e in Maurice Lacroix mi piace il fatto che noi atleti siamo molto sportivi e con Maurice Lacroix posso, cioè fa uscire un lato di me un po' più elegante, un po' più femminile, e quindi a me piace questo e spero anche in futuro di riuscire sempre di più a mostrare anche questo lato femminile di noi essere donne oltre che essere atlete, perché è una cosa a cui ci possiamo legare, noi siamo sempre vestiti di sci tanto sportivi o cosa, e Maurice Lacroix mi fa, diciamo, uscire un po' un altro lato. By the way, I have a special gift for you, and the team actually wanted to offer, to celebrate this great achievement by offering you this very special Maurice Lacroix, this is a new timepiece that we launched a couple of months ago with a very nice salmon dial, and on the case back you will see a special engraving just to celebrate your achievement this year. Grazie, thank you very much. You're welcome. È bellissimo. Lo metto. Che bello sul rosino. GS World Cup winner. Marta Vicente. Marta. Marta 2020-2021. No. Bellissimo. Grazie, thank you. You're very welcome. You're very welcome. You're very welcome.